L'innevamento programmato può davvero salvare una stagione sciistica, specialmente in inverni carenti di neve come questo. Non sanno bene gli impiantisti che si sono riuniti a Bormio presso la sede della Sib, in occasione della riunione del Consiglio Direttivo di Federfun Italia, preseduto da Andrea Formento, che riunisce i comprensori delle regioni a statuto ordinario. Nel corso della riunione, infatti, i responsabili hanno ribadito e riconosciuto l'importanza dell'innevamento programmato, che può rivelarsi davvero decisivo. Ma se da un lato la neve artificiale si può considerare una vera e propria manna dal cielo. Dall'altro, questo manto fa pagare cara la pelle alle società impianti. Il costo medio per preparare una pista lunga un chilometro è infatti di 20.000 euro, spese non da poco conto, considerato che purtroppo sugli impianti della provincia grava un debito di 150 milioni di euro. Per questo è stato deciso di lanciare un documento che proponga alle amministrazioni regionali di adottare una legge che attivi un sostegno economico per quelle aziende che nel corso degli anni hanno fatto importanti investimenti nel settore dell'innevamento programmato, come illustrato da Giorgio Nana, segretario degli impianti a fune CGL. Sia in Valtellina, sia anche a livello lombardo, ma anche a livello nazionale, ci sono delle leggi diverse tra regioni e regioni, ad esempio in Piemonte, in Emilia Romagna e in Toscana. La regione praticamente copre quasi tutto il costo dell'innevamento. In Lombardia si sta ancora aspettando la legge regionale promessa dal sottosegretario Parolo che ha fatto un intervento il 20 dicembre. In regione è anche abbastanza pesante, dicendo che per la montagna ci sono solo le briciole. Questo sicuramente non ci tiene tranquilli perché prima o poi quel problema va affrontato. Quella è la soluzione unica, staccare l'innevamento dalla gestione degli impianti, altrimenti il giocattolo prima o poi rischia di fermarsi. Un sostegno fondamentale per un settore come quello degli impianti, che in Valtellina genera non solo 65,5 milioni di anni di fatturato, pari al 6% del PIL locale, ma offre anche 450 posti di lavoro fissi, ai quali si sommano gli stagionali che possono arrivare a quota 3.000.